Bentornati, oggi andremo a cercare di capire bene insieme come mai vengono spesso utilizzati i puntatori come array. Quindi al posto di utilizzare la classica definizione di array, che se non avete bene idea si tratta di questa qua, alla riga 53, invece di utilizzare quella, molto spesso si vede la dichiarazione direttamente tramite puntatore. Quindi come abbiamo definito puntatore P, lo si utilizza spesso anche come array. Andremo bene a spiegare qual è la differenza tra memoria statica e memoria dinamica, e per la fine di questo video dovreste essere in grado di utilizzare ogni tipo di array composto da puntatori. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere. La volta scorsa abbiamo detto che un puntatore è appunto una variabile che punta a una zona della memoria. Se noi prendiamo questa variabile e cerchiamo di puntare alla zona successiva, abbiamo detto che la memoria RAM è divisa in celle, quindi esiste una zona successiva. Se esiste la cella 100.000 esisterà anche la cella 100.000 e 1, la cella 100.000 e 2, la cella 100.000 e 3. Beh, dovete sapere che esiste una cosa chiamata aritmetica dei puntatori. Questa cosa è forse una delle cose un pochino più complicate, quindi vi diciamo che perderò un paio di minuti a parlarne prima di passare effettivamente al codice. Che cos'è l'aritmetica dei puntatori? Beh, il C si occupa per noi di capire in quale posto della memoria è salvata ogni variabile. Nel senso che, se io per esempio ho un puntatore, che ne so, P, che punta a un intero, sappiamo che quella variabile puntata da P non sarà solo quella che si trova nella zona di memoria indicata da P, non solo in quella cella, ma siccome è un intero, e sappiamo che gli interi utilizzano 4 byte di dimensione, P in realtà punta a quella zona di memoria più altri 3 byte, quindi in totale 4 byte, 4 cellette. Quindi ovviamente se noi ci riferiamo al successivo di P, alla zona successiva a ciò a cui punta P, ovviamente ci stiamo riferendo ai 4 byte successivi. Quindi se noi i primi 4 sono quelli a cui punta P, bisogna andare dal quinto byte fino all'ottavo per avere il nostro secondo elemento, la nostra locazione di memoria contigua, se si tratta di interi. Chiaramente con i caratteri non sarà così. I caratteri, per esempio in una stringa, saranno immagazzinati in memoria uno di fianco all'altro. E questo concetto è un concetto che utilizzavamo anche quando parlavamo di array. Anche un array definito come quello che avevamo già spiegato in questo modo avrà, è vero, questi numeri, ma questo qua occuperà, il numero 1 occuperà 4 celle, il numero 2 ne occuperà altre 4, e saranno quelle subito successive, il numero 3 tale e quale, e via così. Quindi utilizzeranno le celle una di fianco all'altra. O meglio, non le celle una di fianco all'altra, ma a gruppi di 4 celle, quei gruppi uno di fianco all'altro. Ma quindi se abbiamo detto che vengono utilizzate delle celle, e noi le celle le possiamo indirizzare, perché non indirizzarle direttamente tramite i puntatori? E qui entra in gioco l'aritmetica dei puntatori che nominavo prima, perché effettivamente un puntatore può essere incrementato o decrementato esattamente come una variabile, quindi con gli stessi operatori, l'operatore di somma, l'operatore di sottrazione, l'operatore di incremento, per capirci il più più o il più uguale, e si comporterà esattamente come abbiamo appena spiegato, ovvero andrà nel gruppo di celle adibito a tenere la variabile successiva a quella a cui adesso sta puntando. Quindi se per esempio vediamo che in questo caso P è uguale all'indirizzo di A, noi P lo possiamo far diventare, utilizzando P++, ciò a cui punta subito dopo ad A. Ed è esattamente quello che facciamo nel nostro primo ciclo, perché effettivamente in questo ciclo, vedete che andiamo per i che va da 0 a 10, a stampare che PD per 100D, quindi PDI, sarà uguale a, effettivamente andiamo a vedere che cosa è PDI, notiamo intanto che P è definito come puntatore, ma si può comunque utilizzare la sintassi solita dei vettori, degli array, quindi appunto PDI uguale a PDI, lo stampiamo, e poi stampiamo anche che però lo si può utilizzare anche in questo modo. Cosa vuol dire? Che P più I, per esempio, quindi P più 0, P più 1, P più 2, dereferenziato, sarà anche lui uguale a, vediamo, saranno uguali PDI e la dereferenziazione di P più I? Ve lo dico già assolutamente sì. Andiamo a vedere, si vede qua, in effetti vediamo che P di 0, che sarebbe appunto l'inizio del nostro array, è uguale a 5. Perché è uguale a 5? Perché se vi ricordate abbiamo detto che P è uguale all'indirizzo di A, quindi che cosa c'è all'indirizzo di A? C'è proprio il numero 5. Questo significa che abbiamo appunto il nostro puntatore che, se visto come un array, un array in generale è sempre un puntatore alla prima celletta in cui inizia l'array. Dopodiché andiamo a incrementarlo, vediamo che questo è come dire P più 0, in effetti prendiamo P, questo come va inteso? Prendiamo P, muoviamoci di 0 blocchi di celle a destra e dereferenziamo. Non ci siamo mossi, quindi è sempre ciò cui punta P. P di 1 è la stessa cosa, è come dire, prendiamo P, spostiamoci di un gruppo di celle, che quindi abbiamo detto prima che sarà composto da 4 byte, perché P è un puntatore intero. Vedete che noi non dobbiamo preoccuparci di quanti byte utilizza, ci pensa direttamente il C. Vedete che io ho scritto soltanto P più 1, non P più 4, perché lui semplicemente sa che se tu vuoi fare P più 1, incrementare un puntatore, ed è un puntatore intero, significa che deve muoversi di 4 byte. Se il puntatore fosse stato a double, questa stessa scrittura P più 1 avrebbe fatto muovere il puntatore di 8 byte, invece che di 4. Però a noi questo interessa poco, perché comunque ci basta scrivere P più 1 e il gioco è fatto, fa tutto diciamo in linguaggio C. Bene, quindi ora vi dimostro anche che effettivamente un array, anche se dichiarato in questo modo, come siamo diciamo un pochino più abituati a vederlo, è di per sé un puntatore. Perché? Perché subito qua sotto andiamo a vedere che la dereferenziazione del nostro array, che è uguale alla posizione 0 dell'array, è uguale a 1. E in effetti è proprio quello che abbiamo scritto qua. Quando lo inizializzavamo è proprio venuto fuori il numero 1. Vi faccio notare che nell'esempio di prima, molti dei valori, essendo che non sono stati inizializzati, noi abbiamo inizializzato soltanto il valore di A a 5, quindi il valore di P come l'indirizzo di A, l'unico valore che inizializzato era il 5, a differenza di questo lungo array che abbiamo definito qua, non li abbiamo inizializzati e quindi troviamo dei valori completamente arbitrari, casuali. Questo perché? Perché stiamo accedendo a delle celle che magari in una precedente esecuzione di un altro programma o di quello che è, avevano questi valori salvati e ovviamente non è che sono stati rimessi a 0. Bene, qua ho lasciato anche un commentino, ricordiamoci quindi da questo che cosa dobbiamo trarne, che scrivere P di I è come prendere P, spostarci di I gruppi di celle e poi di referenziare. Questo è il concetto fondamentale. E poi ho scritto in modo abbastanza brutto, però il fatto che vi spiegavo prima, che se sommo 1 a un int pointer, in realtà gli sto sommando 4 byte, la dimensione di size of int. Da stesso modo se questo fosse stato un double pointer, la size of double sarebbe stata 8 e quindi gli avrei sommato 8 byte. Vediamo infatti che la dimensione può cambiare, per esempio qua abbiamo un char e quindi il nostro pointer che puntava sempre all'indirizzo di A, che quindi vediamo che non conta di che tipo è A. Noi stiamo guardando il suo indirizzo, per esempio in questo caso A era un intero, ma io vado a posizionarmi al suo indirizzo, quindi vuol dire che leggo il primo byte dei 4 utilizzati per scrivere l'intero. e vado a vedere che il risultato è che il pointer PTR si trova alla locazione 7724. Quindi, ok, questo abbiamo capito. La posizione pointer più 1, ricordiamoci che pointer è un puntatore a char, aumenta di 1 invece che di 4, come vediamo nell'esempio dopo. Perché qua aumenta di 4 e qua aumenta di 1? Perché il C in automatico, nonostante io abbia scritto sempre PTR più 1 e P più 1, io non ho messo più 4 o più 1, ho messo sempre più 1. Però il C in automatico riesce a capire se questo puntatore punta a char, allora devo aumentare soltanto di un byte, perché la dimensione di un char è un byte. Mentre se punta un intero devo aumentare di 4 byte, perché la dimensione di un intero sono appunto 4 byte. Ok, finora abbiamo sempre lavorato con quella che si chiama memoria statica. Dovete sapere che un programma è dotato di una memoria statica, che è la memoria che possiamo già sapere a priori, quindi già sapere compilando il programma. Esempio, ho dichiarato questo array, ho scritto qua dentro 50. Questo significa che io so a priori, so che questo array sarà sempre lungo 50. Non lo posso modificare, perché questo si trova in memoria statica. Esistono degli array che posso modificare, sì, e si utilizza una funzione che si chiama memoryAlloc, che ci permette di spostarci in quella che si chiama memoria dinamica. Quindi quello che dovete sapere è che il programma ha queste due grandi zone della memoria astratte, chiaramente non sono zone vere, però immaginiamocela così. Ci sono due zone della memoria, una è la memoria statica, che quindi non cresce, è quella che ci si può rendere conto subito durante la compilazione, no? Quando leggo il codice, quanto è grande quella zona di memoria, perché per esempio mi è stata definita qua. 50 interi, quindi 50 per 4 byte, quella è la dimensione di 50 interi in byte. E poi c'è una memoria invece dinamica. La memoria dinamica è quella che può essere richiesta in fase di runtime. Quindi per esempio io posso richiedere al sistema operativo una porzione di memoria nel momento in cui la mia applicazione sta correndo, mentre sta andando avanti. Posso chiedere, mi concederesti 50 byte per utilizzare questo array? E poi ovviamente, se sono una persona educata, devo anche restituirli, perché sennò quella zona di memoria rimane mia e non potrà essere utilizzata finché il mio programma non ha smesso di eseguire. Ma se io non la utilizzo più, già da metà programma, è buona pratica restituirla. Come si fanno quindi queste due operazioni principali per avere degli array in memoria dinamica e quindi ridimensionarli, averli della dimensione che si vuole? Si utilizza la mAlloc o la cAlloc, che sono queste funzioni che vediamo qua sotto. Qual è la principale differenza? Fanno entrambe la stessa cosa. L'unica differenza è che la cAlloc riceve due parametri, un numero di oggetti da allocare in memoria e la dimensione di ciascun oggetto. E oltre ad allocarli in memoria dinamica, a volte chiamata anche heap, scritto così, inizializza anche tutta quella zona richiesta a zero. La differenza con la Malloc è che invece questo calcolo ce lo dobbiamo fare noi. Dobbiamo sapere qual è la dimensione di un float, quindi nel caso per esempio size of float bytes, e lo moltiplico per quanti me ne servono. Quindi richiedo direttamente quanti byte voglio. Sono due cose assolutamente equivalenti. Bene, poi andiamo a provare per esempio con un intero, andiamo appunto a vedere questa dereferenziazione come abbiamo visto prima, andiamo a vedere che cosa si trova all'interno di Q. Andiamo a vedere che quindi il risultato della nostra esecuzione esecuzione e che è all'indirizzo bla 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 si trova nei primi 5, scusate, nei primi 5, 1, 0, e poi iniziano a essere delle incongruenze. Il resto adesso è zero perché diciamoci è andata di fortuna, ma in altre esecuzioni ve lo assicuro io è già capitato che vengono dei numeri assolutamente a caso dalla posizione 5 in avanti. Questo perché la calloc si occupa di iniziare a zero solo quelli che sono stati richiesti. Siccome io qua sto sporando da quelli che mi sono stati richiesti, intanto potrebbe capitarmi un segmentation fault. Non mi è capitato in questo caso perché evidentemente quella zona di memoria lì non era stata marcata come inaccessibile al mio programma. Però è da ricordare, è buona cosa da sapere, che uscire dalle dimensioni di un array con un puntatore, dalle dimensioni per esempio richieste tramite una calloc o una malloc, può assolutamente creare dei problemi. Non è necessario che la calloc e la malloc diano dei problemi se non viene fatto un casting esplicito, per cui semplicemente vi basta rispecificare il tipo di Q. Normalmente non è assolutamente necessario, ma a volte scrivere questo float col puntatore permette di fare un casting esplicito di ciò che va inserito all'interno di Q. Non dovrebbe essere necessario, ma potrebbe essere necessario, quindi a volte potrebbe risolvervi qualche problema. Andiamo a concludere quindi con l'ultima cosa che avevamo detto che avremmo fatto, ovvero andiamo a restituire a questa, diciamo, enorme scatola da cui il sistema operativo ci può concedere della memoria ciò che ci è stato assegnato, ovvero il puntatore Q. Quindi semplicemente andiamo a chiamare la free e andiamo a dire che liberiamo ciò che è stato assegnato al posto di Q. Ok, l'esecuzione è avvenuta con successo come potevamo immaginare. Bene, il nostro tempo a disposizione è quasi terminato, però volevo soltanto dirvi che anche le matrici, come abbiamo visto, e questo non ve lo spiegherò perché comunque è già presente nella spiegazione di che cosa sono gli array, che cosa sono le matrici all'interno di questa playlist, anche le matrici, chiaramente, per la stessa definizione che abbiamo dato noi, ovvero che sono array di array, anche quelle possono essere viste come dei puntatori, quindi come un puntatore a un puntatore. E ovviamente questo genera un pochino di complessità, quindi andiamo a parlarne poi quando sarà necessario, nel caso scrivetemi un commento e potrei farvi uscire un video dove vi spiego esattamente come trattare le matrici tramite l'utilizzo di puntatori. Ma se sapete che cos'è un array e come lo si usa tramite i puntatori, dovreste sapere anche come si utilizzano le matrici. L'unica differenza è che all'interno dell'array, visto come puntatore iniziale, ci saranno altri puntatori, quindi sarà un array di puntatori. Bene, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, a condividere il video, a commentare con eventuali domande, e noi ci vediamo nel prossimo.